Un'altra esigenza molto comune quando si ha a che fare con gli array è il loro ordinamento, cioè riorganizzare gli elementi in modo che vadano dal valore più piccolo al più grande o viceversa. E ancora una volta dobbiamo fare distinzione tra array non associativi e associativi. Sono tornato sul vettore 1, aggiungiamo un paio di valori che rovinano l'ordine, qua ci mettiamo un 2. Allora, magari stampiamo il vettore nel suo stato non ordinato e poi ordiniamolo. Sort ordina dal valore più piccolo al valore più grande. Se volessimo l'ordine inverso basterebbe utilizzare la versione r sort dove la r sta per reversed, cioè invertito, a contrario insomma. E come conferma ristampiamo il vettore però ordinato. E questo è il risultato. Il 7 e il 2 qua fuori posto, dopo l'ordinamento tutto ok. Proviamo l'ordinamento dal più grande al più piccolo con r sort. Aggiore una pagina. Benissimo. Vediamo ora con il vettore associativo che cosa succede utilizzando cliente 1. Come prima la stampa dell'array non ordinato, ricordatevi però di usare la stampa as, trattandosi di un array associativo. E il comando è l'associative sort, a sort. E poi la stampa del risultato. L'ordinamento avviene in questo caso in base ai valori, indipendentemente dalle chiavi. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'elemento canicattì in ordine alfabetico è quello che dovrà comparire per primo. Quindi stamperebbe prima il comune solo perché canicattì come stringa è minore di Mario. Da notare come i numeri vengono messi in fondo. Volendo pensare a una situazione in cui questo tipo di ordinamento ha un po' più di significato, potremmo pensare a una scheda di esami clinici dove tutti i risultati sono dissolte i valori, che devono stare all'interno in un certo intervallo, l'emoglobina e quelle cose lì. Va bene, allora se volessimo mettere in ordine in base a questi parametri avremmo un senso perché tutti i valori sarebbero numerici e allora otterrebbe effettivamente un ordinamento utile. Per gli array associativi esiste anche la variante che ordina non in base al valore degli elementi ma in base al valore delle chiavi, il key sort, chiave, k sort e otterremmo questo. Prima il k, perché come chiave è quella che risulta alfabeticamente inferiore, poi il cognome, il comune, vedete, sono in ordine ma in base alla chiave. Il valore associato non conta. Queste funzioni di ordinamento vanno bene quando l'ordine che si vuole imporre è quello che noi intuitivamente associamo all'essere maggiore o minore, tra numeri o stringhe. Ma immaginiamo di avere un elenco di clienti e di volerlo ordinare secondo una formula più complessa che tiene conto, non so, di tanti fattori, da quanti anni è nostro cliente, dal fatturato generato in un certo periodo. Quindi per decidere se un cliente è maggiore di un altro, dobbiamo fare appunto questo calcolo particolare, non un semplice maggiore o minore. Bene, in questi casi, e vi invito ad andare a vedere qualche esempio sul manuale, c'è la possibilità di utilizzare la versione usort per gli array non associativi, o uasort per gli array associativi, o uk se vogliamo farlo in base alle chiavi, che permette al programmatore di definire una sua funzione, con dentro una logica anche molto complessa, che dovrà decidere quando un elemento di un certo di quel vettore dovrà essere considerato maggiore o minore di un altro. Giusto per avere un'idea, la funzione da usare per il sort potrebbe essere più o meno strutturata così. in ingresso ha due parametri, che sono i due elementi che in automatico l'usort passerà a questa funzione per fargli decidere se il primo è maggiore o uguale o minore del secondo. E noi, in base a una logica che, ripeto, può essere anche molto complessa, dovremo fare dei controlli e quando questi porteranno alla conclusione che il primo elemento deve essere considerato minore del secondo, dovremo restare a restituire meno uno. Quando invece il primo dovrà essere considerato maggiore del secondo, uno. Altrimenti, per dire che devono essere considerati uguali, faremo restituire zero. Ed ecco come andremo poi a comandare l'ordinamento. usort, user define sort, l'array è il dollaro cliente 2 e questa è la funzione che l'usort deve usare per decidere quando un elemento, il dollaro cliente 2, è minore o uguale o maggiore di un altro. Siamo in chiusura. Al volo ancora un paio di funzioni utili. Per ottenere la somma dei valori di un vettore numerico, diciamo, il nostro vettore 1 definito qui, è possibile semplicemente invocare la funzione array sum. Eccolo qui. E chiudiamo con la fusione di due array. Può essere fatto sia con array tipo numerico, ma anche stringhe, e anche con array associativi. Però lì attenzione perché possono capitare cose strane con le chiavi di digitazione. Fate riferimento agli esempi che trovate sul manuale online. Qui limitiamoci al caso più comune, che può essere questo. Ho due array numerici e li fondo in un unico vettore risultante v3 chiedendo l'array merge di questi due array. Potrà aggiungere anche un terzo e un quarto, quindi è un numero variabile di parametri che può essere dato in ingresso all'array merge, dove ciascuno rappresenta uno degli array da fondere con gli altri. Notate come eventuali doppioni vengono mantenuti nel risultato. Questo 4 compare infatti due volte. E con questo direi che possiamo considerare concluso l'argomento array che vuole approfondire davvero ogni particolare e farà riferimento a un reference. Se no, questo diventerebbe un video reference invece di un videocorso. Nel prossimo video continueremo e completeremo il discorso funzioni e poi potremo cominciare con la OP, gli oggetti e le classi e quant'altro. A risentirci.